Arriva un altro stop per i tamponi. I laboratori privati accreditati della Campania non possono effettuare i test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG che consentono di rivelare se un soggetto è entrato in contatto con il coronavirus. Lo scorso 8 aprile le associazioni Federlab Campania, Aspat Campania, Anisa, le Confindustria Campania ne avevano annunciato l'avvio per questa mattina ma ieri sera è arrivato lo stop dell'unità di crisi della regione Campania che annuncia di aver chiesto uno specifico parere del Ministero della Salute. Per l'unità di crisi inoltre l'effettuazione dei test nei laboratori privati rappresentano una seria minaccia alle disposizioni di contenimento e di distanziamento sociale emanati a livello nazionale e regionale ed è attesa per i tamponi invece all'ospedale di Pozzuoli dove sono stati chiusi due reparti, accesso vietato a familiari e dei pazienti e persone non autorizzate, stop temporaneo ai ricoveri e trasferimento da 118 per consentire la sanificazione radicale dell'ospedale. Sono queste le prime richieste dei sindaci flagrei fatte alla direzione generale dell'Asle Napoli 2 Nord e dell'ospedale di Pozzuoli nel corso di una videoconferenza. Richiesti accolte dai vertici sanitari dell'Asle e del nosocomio che si sono attivati ad Oras per mettere in pratica le misure concordate in seguito all'isolamento del reparto di medicina dove ad oggi sono risultati positivi al covid 23 unità del personale sanitario e due pazienti data in continua evoluzione purtroppo dopo i contagi innescati da una paziente ricoverata nel reparto nei giorni precedenti.